Il Centro Tantur è un istituto per studi ecumenici che sorge alle porte di Gerusalemme, di grande importanza per la Terra Santa e non solo. Dal 1972, anno della sua apertura, sono stati veramente in tanti a trascorrere giornate di studio e di approfondimento qui, per conoscere meglio le tre religioni monoteiste e le diverse chiese cristiane. Valore aggiunto di questo centro è ovviamente la terra sulla quale sorge, la Terra di Gesù Cristo. Come ha detto San Girolamo, il Quinto Vangelo, e conoscendola, grazie alle proposte formative del Centro Tantur, si riesce a comprendere meglio i quattro Vangeli canonici. Portare la gente in Terra Santa e far conoscere il Quinto Vangelo, come ha detto San Girolamo, è molto importante per noi. Abbiamo ricevuto persone da ovunque, nel mondo, Filippine, India, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, per avere un'esperienza della Terra, ma non solo della Terra che è molto importante, Gesù qui ha vissuto, ma anche esperienza della gente di questa Terra, ebrei, musulmani e delle altre componenti della famiglia cristiana. Noi creiamo questa possibilità di incontro in corsi di quattro settimane o programmi di sei mesi, in modo che si conoscano e conoscono la Terra. Uno degli obiettivi principali dell'Istituto Tantur è quello di aiutare la conoscenza ed il dialogo tra le diverse fedi che coesistono nella Terra Santa, dimostrando la possibilità di una convivenza pacifica, che spesso scaturisce dall'approfondimento dei punti in comune. La ricerca è inoltre indirizzata a favorire l'incontro ed il dialogo tra le persone e sviluppare studi ed esperienze ecumeniche per favorire l'unità tra i cristiani. Quando Papa Paolo VI diede il via l'attività di Tantur molti anni fa, era il suo sogno di venire dove la cristianità ebbe inizio. Nessuna delle divisioni iniziò qui, tutte sono venute dall'esterno, per iniziare a lavorare ancora per l'unità della Chiesa per la quale Gesù ha pregato nella notte prima di morire. E allora noi uniamo studenti in tutto il mondo e di diverse componenti della famiglia cristiana per lavorare insieme, pregare insieme, dialogare e forse per realizzare il sogno di Papa Paolo VI e la preghiera di Gesù Cristo che tutti siano uno solo che il mondo inizia a credere. Padre McGarry, direttore uscente dell'Istituto, sta per lasciare il centro dopo oltre tre mandati, 11 anni trascorsi in un posto privilegiato, punto di incontro mondiale, laboratorio per la ricerca di unità e luogo di osservazione particolare di dialogo sociale e religioso. Quale messaggio porta con sé dopo questa ricca esperienza? 11 anni trascorsi qui è stata un'esperienza del tutto speciale, le visite di due pontefici, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma ancora non c'è la pace. E allora qual è il messaggio? Che la speranza viene da Dio, non abbiamo creato noi la speranza, ci è stata data da Dio e allora noi crediamo nella pace qui, ma non sulla base di quello che l'uomo fa, ma perché la nostra speranza è in Gesù Cristo, Lui è stato colui che ci ha dato la speranza, Lui è colui che ci dà la pace.